Paolo Martocchia, un libro per raccontare le gesta di Bruno Nobili, ma soprattutto l'uomo Bruno Nobili. Sì, oggi Bruno Nobili compie 70 anni e noi abbiamo sentito quasi il diritto di fargli questo omaggio. Perché? Perché ha rappresentato un'epoca importante per Pescara. Il suo vissuto, e quindi il vissuto calcistico, corrisponde ad un periodo in cui la città di Pescara si evolveva sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto dal punto di vista sportivo. Bruno Nobili ha rappresentato un po' l'epopea di quella che è stata il Pescara che poi è andato in Serie A per due volte consecutive. Per cui noi abbiamo voluto tracciare un filo rosso che collega a quel periodo fino agli anni in cui lui ha terminato di giocare ed è andato a fare la carriera di allenatore. Un libro che è incentrato sul gesto tecnico. Quanto è cambiato il gesto tecnico dai suoi tempi a quelli di oggi? Probabilmente sono un po' diminuiti i gesti tecnici più belli, perché credo che oggi la tecnica sia ritenuta meno importante che l'aspetto fisico e tattico, anche se io non sono d'accordo. Però ci sono ancora dei grossi giocatori che hanno queste capacità e si vede anche nelle squadre dove stanno. Poi è arrivato a Pescara e qui ha fatto la storia, ha fatto la storia di questo grande club, due promozioni. È stato Vincenzo Marinelli, allora nello staff, nella dirigenza del Pescara, che su invito di Tom Rosati mi ha richiesto al Cagliari. È data l'amicizia tra l'allora presidente del Cagliari, Arrica, e Vincenzo Marinelli. La cosa si fece. Non venne pagato neanche tanto poco per l'epoca, perché i 110 milioni a quell'epoca era un prezzo abbastanza notevole. Parlando con Nobili abbiamo anche scoperto alcuni aneddoti che si rivelano molto importanti e che rapportati con il mondo del calcio di adesso danno uno spaccato molto significativo. Per esempio, Nobili avrebbe potuto andare nei grandi club della Serie A, nel momento in cui i procuratori non c'erano. Bene, non lo ha fatto. Questo vuol dire che l'attaccamento nei confronti della maglia e della città è stato più forte di lui. Quindi c'è stato un trasporto comune che lo ha legato a questo vissuto, provenendo dal Venezuela dove era nato e da Roma da dove era arrivato una volta tornato in Italia.